Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, Politiche di Coesione, PNRR, raccoglie anche la delega per il Sud. La decisione a favore dell'ex governatore pugliese è giunta al termine dell'ultimo Consiglio dei Ministri. Nel corso della seduta, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rimodulato gli incarichi riguardanti i ministri senza portafoglio, proponendo per fitto dunque la delega al Sud, che fino a prima era stata in capo al Ministro per il Mare, l'ex Presidente della Sicilia, Nello Musumeci, a cui invece è stata conferita la delega alla protezione civile. Cambiamenti hanno riguardato anche l'ex Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ora Ministro per le Riforme, che ha raccolto anche la delega per la semplificazione normativa. Il sottosegretario Maurizio Leo, invece, è stato promosso a Vice Ministro. Una scelta strategica, così Giorgia Meloni ha definito la decisione di conferire a Raffaele Fitto l'incarico del mezzogiorno, scelta legata, secondo il Premier, all'utilizzo dei fondi europei.